Il fagiolo è un simbolo, forse la nostra migliore bandiera tra le bandiere che abbiamo per capire come comunità chi siamo e per essere in grado di uscire all'esterno dei nostri confini comunali nel modo più corretto e più efficace. Il fagiolo è il simbolo dell'eccellenza di Lamont, è il simbolo anche della capacità di Lamont di produrre ma di fare anche squadra, è il simbolo con questa festa della mutua solidarietà tra lamonesi.